Un attacco a tutto campo, quello di Matteo Salvini, leader della Lega, che ieri ha visitato il cara di Mineo. Vigili del fuoco impegnati nella notte per spegnere ben 32 incendi rivampati tra Palermo e provincia, alimentati dal forte vento di Scirocco. Entrano nel vivo ad Altavilla Milica i festeggiamenti in onore della Madonna della Milica. A voi tutti benvenuti ad una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 5 settembre. Un attacco a tutto campo, quello di Matteo Salvini, leader della Lega, che ieri ha visitato il cara di Mineo, il centro di accoglienza dove viveva Livoriano, accusato di aver ucciso la coppia di Palagonia. Chi è al governo è un imbecille, ha detto Salvini, attaccando Renzi e Alfano. Sono ridicoli, sono ridicoli, perché il massimo sforzo che fa la Merkel è dire prendo i siriani, che è l'unica popolazione che scappa veramente dalla guerra ed è un'immigrazione anche qualificata con medici, con avvocati, con studenti. Per la serie scelgo io quelli che voglio e il resto ve lo smazzate voi. Quindi è l'ennesima presa in giro nei confronti dell'Europa e l'ennesimo silenzio da parte di Renzi e di Alfano che rispondono con il nulla e con la resa. I di Alfano sono due incapaci incollati alla poltrona. E dove sono? Renzi e Alfano qua non li vedo, Renzi e Alfano a Palagonia non li ho visti e se fossi in loro mi vergognerò. E' la quarta volta che vengo qua, non so che altre inchieste, che altri omicidi, che altri interventi, che altri disastri debbano occorre. Questi sono 100 milioni di euro sbattute via. Oggi mi farò dare le nazionalità delle persone che sono ospiti qua dentro, poi ve le distribuisco e voglio vedere quante sono le persone qua dentro, ospiti che scappano veramente dalla guerra. Lacrime e rabbia. Quel bambino scappia da una guerra di cui il mondo si disinteressa. L'Unione Europea e l'Italia hanno un embargo contro il governo siriano e sono complici dei massacri dell'Isis. E quel bimbo scappava dalla Turchia, che è un regime che qualcuno vorrebbe fare entrare in Europa, alleato della Nato, dell'Europa e degli Stati Uniti. Quindi le immagini di quel bambino dovrebbero svegliare le coscienze di quelli che si fingono buoni ma che in realtà sono i veri assassini. Siamo uomini, siamo donne, dobbiamo accogliere chi scappa veramente dalle bombe e dalla guerra, ma non possiamo svuotare l'Asia e l'Africa pensando di accoglierle in Italia e in Europa per fare il business di qualcuno che ci guadagna e ci specula. E' più utile spendere là i soldi che stiamo sbattendo via qua. Non sono loro che devono chiedere scusa, è lo Stato che deve chiedere scusa. Non sono io, non me la prendo con i ragazzi che sono qua dentro. Io me la prendo con uno Stato che pensa di poter offrire case e lavoro che non c'è neanche per gli italiani. E non si è fatta attendere la risposta del ministro dell'interno Angelino Alfano che ha detto Salvini adesso si scusi con la Sicilia. Chi sta al governo è un imbecille. Parole pesanti quelle di Salvini ieri in visita al Caradimineo dove era ospitato l'ivoriano diciottenne Mamadu Camara accusato del duplice omicidio di Palagonia. Renzi e Alfano ha detto ancora Salvini sono incollati alla poltrona, non li vedo, non li ho visti a Palagonia, fossi in loro mi vergognerei. Se ogni volta che vengo devo parlare di morti, feriti, incidenti e immigrazione è perché chi ha il governo è un incapace. Parole a cui è arrivata subito la risposta del ministro dell'interno Angelino Alfano. I siciliani aspettano ancora le scuse della Lega per la cattiveria di impiantare in Sicilia il più grande centro d'accoglienza per immigrati d'Europa. Salvini si scusi con i siciliani e poi potrà essere credibile. Possiamo chiudere il cara di Mineo, ha continuato il ministro, trasformarlo in Oxford e mandare circa 3.000 migranti che ospita in altri comuni. Se Salvini ci dice che i comuni e i sindaci leghisti li accolgono, noi li mandiamo dove dice Salvini. Non abbiamo alcun problema. Un botta e risposta che dura da giorni, quello tra i leader della Lega e il ministro Alfano, e che con ogni probabilità è destinato a durare ancora a lungo, visto che la risoluzione del problema sembra parecchio lontana. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere l'impugnativa della riforma regionale degli appalti. Lancia e Sicilia, ora Stato e Regione, dialoghino per garantire ancora più trasparenza e sviluppo al settore delle costruzioni. Recependo l'appello dell'assessore regionale alle infrastrutture, Giovanni Pizzo e del Lancia e Sicilia, il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici, il provvedimento di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale della legge regionale numero 14 dello scorso mese di luglio, la riforma degli appalti, che legando le offerte alla reale valutazione dei progetti, blocca i ribassi anomali e taglia fuori dalle aggiudicazioni, cordate, imprese mafiose, tangentisti e grandi gruppi speculativi. Il Governo nazionale ha manifestato grande sensibilità, ma anche un forte senso di responsabilità, commenta il Presidente facente funzioni di Ance Sicilia, Santo Cutrone. Infatti l'impugnativa avrebbe messo a rischio di irrevoca tutte le gare aggiudicate nel frattempo fino alla sentenza della consulta, generando incertezze e caos nelle amministrazioni e fra le imprese. Ai rilievi degli uffici di Palazzo Chigi, aggiunge Cutrone, circa il rischio di limitare la concorrenza invadendo un campo proprio dell'Unione Europea, abbiamo contrapposto i fatti che dimostrano come invece i criteri introdotti dalla riforma regionale, che si applicano solo in porti di gare inferiori alla soglia di interesse comunitario, abbiano ulteriormente ampliato la concorrenza. Vigili del fuoco impegnati nella notte per spegnere ben 32 incendi rivampati tra Palermo e provincia, alimentati dal forte vento di Scirocco. Gli incendi più basti hanno distrutto ettari di terreni incolti nella zona della Fiat a termini imerese tra il paese e l'autostrada. I pompieri e i forestali sono stati impegnati anche a Villabate, a Partinico, a San Cipirello, a Trabbia. Un incendio è divampato a Campofilice di Rocella dopo che sono stati esplosi i giochi d'artificio per una festa di paese. Sono intervenute in questo caso anche le squadre dei volontari della protezione civile. Ancora un gravissimo incidente stradale a Palermo. È accaduto ieri in via Pietro Calandra, nella zona tra Tommaso Natale e Sferacavallo. La vittima è Giuseppe Rosinganno, di 39 anni. È stato travolto da un'auto, una Mercedes classe A scura, mentre era a bordo della sua Vespa Piaggio. L'automobilista, che procedeva ad altissima velocità dopo il violento impatto, si è dato alla fuga, ma alcuni testimoni avrebbero segnato la targa della sua macchina. Indagini sono in corso. Dopo cinque anni, ritorna a Palermo la festa delle unità. Si svolgerà dal 24 settembre al 4 ottobre ai Cantieri Culturali della Zisa. Un'occasione di festa, ma anche di dibattito su temi politici importanti, come spiega Carmelo Miceli, segretario del PD di Palermo. Con estremo orgoglio e gioia che annunciamo proprio il ritorno di una festa, ed anzi, lo sbarco in Sicilia per la prima volta di una festa di carattere nazionale, perché la caratterizzazione della prossima festa dell'unità è proprio il fatto che è una festa nazionale del mezzogiorno, quindi concentrata sulle tematiche del sud, sulla questione del mezzogiorno e su tutto ciò che serve per fare il punto sulle esigenze del mezzogiorno e per fare ripartire il mezzogiorno. La festa che si svolgerà presso i Cantieri Culturali della Zisa, si svolgerà, chiaramente ci saranno i momenti di svago, di intrattenimento, di musica e di cultura, ma si svolgerà con dei dibattiti politici che proprio sulle tematiche del mezzogiorno vedranno la sera, la presenza di personalità nazionale, ministri, hanno già dato la conferma al ministro Martina, al ministro del Rio, Lorenzo Guerini che è responsabile dell'organizzazione nazionale, ma anche il presidente del partito. Insomma, la presenza dei big sulle tematiche della ricaduta all'azione del governo centrale sul mezzogiorno e nella fascia pomeridiana avremo tutta un momento di dibattita, di analisi politica incentrata sulla città di Palermo, sull'area metropolitana di Palermo e sul libero concerto di Palermo. Il tutto finalizzato ovviamente a fare in modo che soprattutto Palermo diventi uno dei motori centrali alla ripartenza della Sicilia e del Sud. La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la proposta del piano triennale delle opere pubbliche. Si tratta di un piano che disegna la città possibile del futuro, con nuove infrastrutture e bonifica del territorio e del mare, ma che secondo la vicepresidente Vicari del Consiglio Comunale, Nadia Spallitta, lascia perplessi su diversi punti. È uno strumento di programmazione che riguarda gli investimenti e le opere pubbliche che l'amministrazione intende realizzare nel periodo 2015-2017. In effetti viene adottato tardivamente perché il 2015 è già quasi finito. L'anomalia di questo programma triennale è che a fronte a un fabbisogno stimato dalla stessa amministrazione in circa 4 miliardi di euro, abbiamo bisogno di 4 miliardi di euro per opere pubbliche, per investimenti, per scuole, strade, marciapiedi, impianti fognati, reti in generale, tutte le opere necessarie per garantire la qualità della vita. Annualmente l'amministrazione investe solo 230-240 milioni di euro, quindi una cifra davvero irrisoria rispetto alle aspettative della città e in idonea a garantire la qualità della vita. Tra l'altro si registra anche una difficoltà a reperire risorse finanziarie perché nell'elenco annuale solo 14 milioni di euro sono le somme che provengono da finanziamenti europei. L'Unione Europea è ben noto che stanzia per la Sicilia miliardi di euro nel corso di 5-6 anni ed è singolare che una grande città come Palermo riesca a recuperare solo 14 milioni di euro per opere pubbliche. Infine da questo programma trennale e dall'elenco annuale emerge una scarsa attenzione per gli interventi che riguardino i parchi, il verde, le attività sportive e le attività produttive. Inizieranno lunedì mattina i lavori di AMG Energia per la realizzazione del semaforo pedonale in Via Libertà nel luogo dove ha perso la vita il 17 maggio scorso Tania Valguernera, travolta da un furgone. L'amministrazione comunale ha immediatamente fatto partire l'iter per la creazione dell'impianto. Sono già stati installati divieti di sosta in Via Cordova e in Via Simone Cuccia all'incrocio con Via Libertà. Entrano nel vivo ad Altavilla Milicia i festeggiamenti in onore della Madonna della Milicia. Riprendiamo le redini di questa festa patronale assieme al Comitato e al Parco. Abbiamo svolto assieme un grande lavoro, è stato istituito un protocollo d'intesa fra la Parrocchia, il Comitato e il Comune dove c'è una collaborazione fattiva tutto l'anno proprio in prospettiva dell'organizzazione dei festeggiamenti. Quindi era una cosa che prima non c'era, ognuno poteva svolgere le funzioni che voleva ma non c'era coordinamento. Adesso c'è un coordinamento unico, quindi la festa patronale, fermo restando che il Comitato è quello che gestirà tutte le manifestazioni, sarà coordinata e programmata nel corso dell'intero anno in modo che sia svolta nel migliore dei modi. Quest'anno abbiamo cercato di fare il massimo col minimo possibile perché nel rispetto di quei cittadini che ancora oggi purtroppo sono in una disoccupazione totale e nel momento particolare di crisi economica sarà una festa sobria, non eccessiva ma bella, veramente bella, organizzata in ogni suo particolare. Non anticipo nulla del programma perché è giusto che lo faccia il Presidente del Comitato però invito tutti quanti, dei comuni viciniori, fedeli e pellegrini a visitare Altavilla Milicia a godere di quelle che saranno le manifestazioni, ce ne saranno diverse, poi ve lo vedranno in programma e soprattutto di venirci a, in qualche maniera, a darci quel momento di felicità rendendo festosa, allegra e con grande partecipazione un evento che dura da 392 anni ed è una delle feste, a quanto pare, lo dicono tutti, più belle del comprensorio. In vista dell'apertura delle scuole, a Casteldaccia è stato organizzato un corso di alta formazione sul tema della disostruzione pediatrica, le interviste. Non a caso stiamo facendo questo convegno prima dell'inizio delle lezioni a scuola che iniziano fra una decina di giorni. Questo convegno si va a realizzare proprio per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno delle nostre aule scolastiche, per i nostri figli, per gli alunni. Oggi ci sono due docenti che spiegheranno le manovre di disostruzione pediatrica. Una tecnica per risolvere il problema che si può venire a creare col bambino piccolo ma anche con la persona un po' più adulta, più del bambino della scuola elementare o scuola media. Molto spesso accade che ingeriscano, come diceva lei, dei corpi estranei oppure del cibo e si possano affogare, per così dire affogare e non possano riuscire a respirare più. Allora per non farli, purtroppo può accadere che il bambino possa anche morire, drammaticamente può esitare e quindi per evitare ciò dobbiamo, la cosa ideale è istruire i docenti ma anche il personale ATA e tutti coloro che vivono all'interno del plesso scolastico. In questo modo i docenti sono preparati a intervenire sul momento e a non fare manovre che possano creare ulteriori danni al bambino. Come prima cosa ovviamente noi diciamo sempre non farsi prendere dal panico e subito agire perché si deve agire tempestivamente. Una volta che si agisce si prende effettivamente in braccio il bimbo di qualsiasi età, quindi da un bambino neonato a un bambino un po' più grandicello, intorno a un anno e mezzo, due anni. Le manovre sono semplici, si eseguono sulla schiena del bimbo, sono delle cinque pacche effettuate con la mano, bambino rivolto con la faccia verso giù, quindi con la nostra mano sotto il loro pancino e con l'altra mano effettuare delle pacche vigorose dietro la loro schiena. Quindi sono cinque pacche col volto rivolso verso il basso. Sono delle pacche che devono andare dal centro dell'addome verso l'esterno in maniera tale da consentire a questo corpo estraneo di poter fuoriuscire dalla bocca, quindi poter espellere questo corpo. Quindi cinque pacche da dentro. Dei colpi secchi diciamo. Sì, dei colpi abbastanza decisi, alternati ad altri cinque movimenti, che sono detti di compressione. Con le due dita si deve andare proprio a sospingere sul pancino del bambino l'aria affinché possa, a modi tappo di spumante, possa far fuoriuscire questo corpo che ha provocato il soffocamento. Questa sera alle ore 21, Villa Valguarnera per festeggiare l'inaugurazione del percorso emozionale Cosmorama. Un viaggio nel tempo ospiterà il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Greco di Taormina, diretta dal maestro Umberto Veronesi. Cosmorama è un progetto altamente innovativo e si compone di dieci postazioni ad alta tecnologia interattiva. Fantasmi in 2 e 3D, una festa cinese, l'incontro con Goethe, Marianna Ucria e il Duca Enrico. Sono solo alcune delle possibilità oniriche che lo spettatore avrà percorrendo i viali del giardino di Villa Valguarnera per l'inaugurazione del percorso emozionale. Un progetto che mette insieme arte e tecnologia al servizio della promozione turistica. Il progetto è stato finanziato dal GAL Metropoli Est all'Associazione Culturale Panaria Film. L'ingresso è libero e gratuito sino alla disponibilità dei posti. Artisti contro le trivelazioni in Sicilia. Questa al Castello Amare di Palermo in Maris Immensitate. Il progetto firmato da Organica London con l'adesione di decine di artisti siciliani. Artisti, ballerini, fotografi, coreografi, saggisti, poeti, attori e creativi insieme per dire no alle trivellazioni in Sicilia. Il progetto è partito sei mesi fa dal desiderio di esprimere il proprio dissenso nei confronti delle trivelle e di uno sviluppo basato sul petrolio. Le singole voci sono diventate così a poco a poco un'opera inedita entreati dal titolo In Maris Immensitate, un progetto corale firmato da Organica London di Francesco Ferla sul libretto dell'attore e drammaturgo Vito Benicio Zingales. Un lavoro che vede l'adesione di giovani talenti e nomi di primo piano del mondo della cultura e dello spettacolo da Giovanni Sollima per le musiche, a Sciobba per la fotografia, alla stilista Francesca Di Maria per i costumi. Sul palco ballerini del Teatro Massimo, dell'Opera di Roma e dell'Arena di Verona, i musicisti del Mandra Music, in scena anche tanti altri artisti siciliani con un'azione drammatica che si al vale di alcuni video realizzati da Francesco Ferla, Luca Gabbes e dello staff di Organica London. Affare da padrino allo spettacolo, Leo Gullotta. Una manifestazione molto importante, un evento di grande, grande respiro. È un evento molto complesso, complesso perché vedono, l'evento vede insieme una comunione di forze abbastanza importante, ballerini, attori che recitano sul palco, musicisti, cantanti. Quindi abbiamo tentato, sicuramente ci riusciremo, di generare una vera e propria opera. Un'opera che da un primo atto a un terzo atto procederà attraverso tre colori, dal nero passando al rosso per finire quindi al blu, il blu del mare. Quel blu che noi artisti, uniti in una comunione comune forza, cercano in tutti i modi con la voce, con tutto quello che è potenza intellettuale, far sì che continui a essere blu. Appuntamento stasera agli ore 20 al Teatro Jolly di Palermo con la 37esima edizione del Festival Cantamare, ideato nel 1978 da Gianni Contino. Allora in realtà io sono nata in una famiglia di musicisti, nel senso Gianni Contino è mio zio e con i suoi fratelli hanno sempre suonato, hanno formato band, mio padre suonava il basso, aveva pure una band musicale, mia madre ha cantato, ha vinto anche delle manifestazioni locali siciliane e cantando anche con i giganti, però io poi insomma la mia natura è stata quella di andare verso il teatro, suono il pianoforte, ho suonato anch'io ma come cantante sicuramente no, la mia voce non va bene. Poi io ho scelto di prendere invece la strada del teatro che è quella che mi appartiene di più, è la mia seconda natura. Fremo, fremo assolutamente, no in realtà è la mia prima esperienza per cui sarò proprio novellina, io ho calcato la scena come attrice però come presentatrice avrò la spalla che sarà Alessandro Amato che lui è insomma invece più preparato di me sicuramente. Io vorrei vincere il concorso ovviamente per andare a New York che è il mio sogno da sempre, quindi spero di vincere. La musica jazz è sicuramente un tipo di musica complessa, di solito ci si avvicina in età più matura, però è un tipo di musica che mi piace perché può dare molto. Ho iniziato a studiarlo da circa tre anni, quindi non moltissimo, però mi piace molto anche l'approccio dei vari musicisti, è la Fitzgerald in primis. Beh, vorrei un po' dire quei nomi che sono stati, diciamo gli artefici che hanno dato valore al Cantamare e con le parole che tu poco fa hai menzionato di Zucchero, Gianni Morandi eccetera, dovrei fare esattamente una spilza di tutti questi attori, cantanti che sono stati presenti al Cantamare. Bene, ogni anno che passa per me è sempre un'emozione, però principalmente il Cantamare nasce sull'impronta dei giovani, quello che io ho sempre desiderato di dare a loro, la possibilità praticamente di diventare qualcuno. Viva il Cantamare! Ed è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana. Grazie! Grazie! Grazie!